Buongiorno, grazie per la vostra presenza, siete numerosissimi e questa cosa ci fa molto piacere perché oggi abbiamo il grandissimo onore di ospitare qui il professor Federico Faggin che tutti voi conoscete e avremo questo incontro, questa chiacchierata con il nostro Roberto Germano. Allora io voglio ringraziare voi, ringrazio i colleghi della stampa che ci stanno dando tanto spazio e ringrazio anche gli studenti perché vedo tantissimi giovani che sono qui e questa cosa veramente ci riempie di orgoglio. Allora io direi di dare il benvenuto a tutti voi, chiedo al professor Faggin e a Roberto Germano di accomodarsi perché ci sarà questa raggiunta conversazione, però alla fine ovviamente il professor Faggin risponderà anche alle vostre domande. Vi auguro ovviamente con un buon proseguimento, professore si accomodi e occupate i vostri spazi, grazie e buon divertimento. Allora benvenuti a tutti in questa sala storica di questo luogo fantastico che io ho la fortuna di poter frequentare da quando avevo 15 anni perché scoprì, stavo al liceo scientifico e scoprì che c'era questa conferenza internazionale che si chiamava 1985, quindi era una data legata al 1905, il famoso annus mirabilis delle scoperte di Einstein e in pratica era stata organizzata questa conferenza internazionale su Einstein e la fisica contemporanea. Quindi a 16 anni praticamente venne con altri amici di classe, avemmo la possibilità di stare due giorni lontani dalla scuola e di stare invece in questo istituto. Da allora ho cominciato a frequentarlo continuamente perché è qui tra l'altro per dirne una connessa dall'argomento di oggi, ho ascoltato da ragazzo sempre Alena Aspect che è il vincitore del premio Nobel per la fisica di quest'anno proprio per l'entanglement quantistico perché ha fatto il primo esperimento in questo ambito di successo in cui dimostrò che dalla fisica quantistica si vede che gli eventi fisici non sono localizzati né nello spazio né nel tempo. Poi ne parleremo meglio con il nostro ospite di stamattina. E io vi voglio solo accennare brevemente questo evento a che cosa è collegato. È organizzato innanzitutto all'Associazione Culturale d'Oltanur, di cui da un anno sono anche il presidente, che abbiamo fondato nel lontano 1997. Dopo una decina di anni di attività legata a una serie di attività che avevano come base il nome dell'associazione che è Altanur, da cui deriva Atanur in latino, quindi diciamo un progiolo di diverse discipline che si fondono per dare origine alla vera conoscenza. Quindi è nata come una situazione tipicamente interdisciplinare, laddove nel lontano 1997 ci eravamo accorti che qualcosa di antipatico stava succedendo, diciamo, e si tendeva a separare sempre di più le conoscenze. In particolare le connessioni in attività è nata una decina d'anni dopo, nel 2007, come evento un po' più grande, al di là dei piccoli eventi che facevamo durante l'anno, un momento un po' più grande, e il nome di questo evento, che poi da allora facciamo ogni anno, è tipicamente ospitato in questa bellissima sede dell'Istituto Italiano per i Studi Filosofici, deriva da un pensiero di Giulio Henri Poincaré, famoso fisico-matematico, che all'inizio del Novecento, nel suo libro, nel suo saggio, il disegno logico, Chiaro e le tolte, aveva scritto, e dalle connessioni in attese, lo dico a memoria, e dalle connessioni in attese tra diverse discipline che viene la nuova scienza, normalmente, come premessa, lui diceva, siamo in un'epoca in cui si tende troppo alla specializzazione, questo lo diceva all'inizio del Novecento, lui che era un fisico-matematico, si tende troppo alla specializzazione, andando avanti così non si può procedere in questa direzione, e perché proprio dalle connessioni in attese tra diverse discipline, come si vedevano apparentemente separate, che deriva la nuova scienza, le vere scoperte innovative, che non sono deduzioni da ciò che si sa, ma sono appunto invenzioni, quindi diciamo si va oltre quella che è il quadro precedentemente conosciuto. Io in particolare sono anche il fondatore della Prometta SRL, che è una spin-off del CNR, che si occupa di trasferimento tecnologico, che è un'attività che è sempre connessa a un ambito tipicamente interdisciplinare, perché sostanzialmente c'è bisogno di collegare diverse discipline in modo da poter andare oltre e fare innovazione anche a livello tecnologico. Nei diversi anni precedenti delle connessioni in attese, qui abbiamo avuto Brian Josephson, premio Nobel per la fisica, l'unico fisico di venti a cui attualmente è intitolato un effetto fisico, l'effetto Josephson, Emilio del Giudice che è venuto quasi a tutte le edizioni, mio amico e maestro fisico-teorico, Luke Montagné, Giuseppe Viterico fisico-teorico che oggi è in sala ed ha anche permesso l'organizzazione di questo evento, Luke Montagné abbiamo metto premio Nobel per la medicina, Vladimir Vojkov dalla Russia che è un biochimico, Mai Wano, genetista di Londra che purtroppo non c'è più, come anche purtroppo Montagné e come anche purtroppo Emilio, ci sono stati i giornalisti Giulietto Chiesa e Maurizio Torrento Realta, Giorgio Galli, famoso politologo, Graham Hancock, scrittore e saggista e tantissimi altri che adesso non riesco a nominare tutti quanti. Voglio dire che abbiamo avuto anche quest'anno il patrocino della regione Campania, nonché del comune Napoli e della città di San Giorgio a Cremano, infatti dopo dovrebbe intervenire il sindaco Giorgio Zinno di San Giorgio a Cremano, dove è basata l'associazione dove è nata l'associazione, dove opera anche con altre attività e il patrocino dell'Università di Studi di Napoli, Federico II, in particolare del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Fisica. Dopo avremo un brevissimo saluto del Direttore del Dipartimento di Fisica. Quest'anno tenetevi informati, adesso davvero non mi posso prolungare, ma tenetevi informati su come sarà organizzato le connessioni in attesa, questo è l'evento di apertura, però sostanzialmente l'evento principale, diciamo quello più lungo di quest'anno, avverrà il 12 novembre 2022, sempre in queste sale, e ci saranno Giuseppe Ritello, professore onorario di Fisica Teorica dell'Università di Salerno, Marco Signore, tecnologo e lavora al Museo Anton Dorn di Napoli, paleontologo, poi ci sarà il professor Alberto Prestinizi, che è un professor di Geologia applicata alla Sapienza di Roma, poi ci sarà Adriano Forgione, che è giornalista, editore, si occupa di tante cose interessanti, e poi Gianluca Di Fratta, che è orientalista ed editore. Ci saranno poi altri cicli di attività, vi chiedo di iscrivervi in modo che vi terremo informati su tutte queste attività. in particolare nel 2022 noi diamo sempre un titolo con tre nomi in questo evento, quest'anno l'abbiamo chiamato Il Prodigio, Il Mostro e Il Daimon, e qui abbiamo con noi sicuramente Il Prodigio, non ci siamo costretti a dirlo, perché non c'è alcun dubbio. Voi non so se sapete, diciamo, cosa ha fatto questa persona. C'era Charles de Gaulle che diceva, non so, ve lo accenno ai francesi anche se non pronuncio molto bene, «De chercher qui cherche, on an trouve». «De chercher qui trouve, on an cherche». Cioè praticamente ricercatori che cercano se ne trovano, ma ricercatori che trovano li stiamo ancora cercando. E in questo caso abbiamo un ricercatore che ha trovato, e non è una cosa molto diffusa, quindi è una cosa particolarmente importante, ha trovato molte cose tra l'altro, quindi diciamo è una cosa abbastanza interessante. E ci parlerà, vabbè, vi accenno sostanzialmente un po' della sua biografia, Fieri Povagini è un fisico italiano che un po' abbastanza velocemente dopo la laurea si trasferì negli Stati Uniti, dove è stato responsabile dello sviluppo dei primi microprocessori 808, microprocessori 808, 4040 e 8080, e ha sviluppato la tecnologia MOS con gate di silicio, che permise appunto la fabbricazione dei primi microprocessori, delle memorie EFRO e RAM dinamiche e dei sensori CCD. Poi nel 74 ha fondato una sua azienda dedicata esclusivamente ai microprocessori, perché prima non c'era un'azienda che facevano microprocessori, è detta vita al famoso Z80. Poi nel 19... e questo lo sanno quasi tutti. Poi in realtà poche, non tutti, sanno che nel 86 è stato lui a sviluppare i primi touchpad, perché prima, non so se vi ricordate, ma i computer e i portatili avevano una sferetta, al posto dell'attuale touchpad, e anche il primo touchscreen, questo non lo sa quasi nessuno, perché tutti pensano che il touchscreen sia stato inventato dall'Apple, in realtà lui l'ha inventato per primo, lo proponeva a tutte le aziende telefoniche le quali non capivano a cosa potesse servire, tranne quando è andato dall'Apple e in quel caso gli hanno chiesto l'esclusiva, vero? L'esclusiva lui non gli aveva dato, così. Però la cosa incredibile è che poi l'Apple ha in qualche modo reinventato, perché a quel punto aveva capito un po' i meccanismi, ha reinventato il touchscreen, però col mercato che l'Apple ha generato, comunque il mercato poi è ricaduto sull'invenzione e sul prevetto di Federico Faggini, quindi comunque sono stati riconosciuti i meriti. Una cosa molto interessante è che poi da una dozzina di anni, dal 2015 sostanzialmente, con la moglie Elbia Faggini, che è qui presente per noi, hanno fondato la fondazione Federico Elbia Faggini, tra l'altro con cui hanno stabilito la cattedra di Fisica e di Informazione presso l'Università della California Santa Cruz, per sostenere lo studio dei sistemi complessi biofisica, scienze cognitive e matematica. Perché? Perché sono diversi anni che Federico Faggini si interessa da scienziato della coscienza e di questo poi tratta il suo ultimo saggio, che è arrivato alla settima di stampa, in un mese e mezzo, che si chiama Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura. All'ingresso comunque la Mondadori avrà disposto un banchetto per chi volesse acquistare. Quindi di questo sostanzialmente che parleremo. In particolare abbiamo riportato anche queste sue parole. Per anni ho inutilmente cercato di capire come la coscienza potesse esorgere da segnali elettrici e biochimici, che è l'attuale paradigma corrente quasi da tutti accettati. Io ho constatato che invariabilmente i segnali elettrici possono solo produrre altri segnali elettrici o altre conseguenze fisiche come forza o movimento, ma mai sensazioni e sentimenti che sono qualitativamente diversi. In pratica è la coscienza fare la differenza tra un robot e un essere umano. Ci ricordano queste parole? Blade Runner, il famoso film tratto dal romanzo di fantascienza di Philip Dick, anche le pecore elettriche hanno sogni, anche gli androidi sognano pecore elettriche. Quindi questo è in sostanza, il punto è questo. Il libero arbitrio, la riflessione, il dubbio sono caratteristiche degli esseri umani e questi ultimi non possono essere comparati a macchine però biologiche. Questo credo sia il punto fondamentale del pensiero di Fargin, che adesso andremo a discutere. Noi troviamo come associazione AltaNur, per quello di cui siamo occupati fin dal 1997, questa cosa molto importante e anche il fatto che l'importanza, specie in questo periodo, in questo momento particolare, storico, l'importanza dell'essere profondamente umani. Su questo c'è una sorella che voglio accennare, voi non sapete forse che il signor Spacca, cioè con la moglie, il signor Spacca di Star Trek, e a un certo punto la moglie dice, insomma, ma tu ami più me o la matematica? E allora il signor Spacca dice, ma amore, ma naturalmente io amo di più te, ma allora dimostramelo. Dunque, si ha l'insieme di tutte le cose amabili. Quindi parte questa dimostrazione. Adesso do la parola a Federico Fettini. Grazie, a voi tutti. Buongiorno, è un piacere essere qui, in questo bellissimo salone. Scusate, ho dimenticato il messaggio del direttore del Dipartimento di Fisica. È bellissimo. Benissimo. Scusate. Sono Gennaro Miele, direttore del Dipartimento di Fisica e della Federico Soprano. Desidero ringraziare per l'iniziativa, per la nuova Federico Faggini, che rappresenta un esempio fulgito di eccellenza italiana in ambito tecnologico e scientifico e che vorrà condividere con noi le sue esperienze e il suo pensiero. Il tema delle discussioni di oggi, che si ispira a una sua pubblicazione recente e che riguarda, tra l'altro, un argomento oggi molto sentito per la possibilità di realizzare macchine sensibili nell'epoca dell'intelligenza artificiale, è storicamente un argomento di ricerca che ha visto un grosso impegno da parte della comunità dei licenziati napoletani, in particolar modo dei fisici, fin dal tempo di Edoardo Gagnanievi, un fisico teorico, un'eccellenza della nostra città e in particolar modo dei suoi studi di cibernetica. Proprio la centralità di questo tema che solleva quei siti filosofici ed etici, oltre che tecnologici, a segnalare l'importanza di iniziative come questa, la quale il Dipartimento di Fisica non può far mancare il suo desiderio. Per questo motivo desidero ancora salutarvi e augurarvi. Ciao. Ringraziamo, troppo lui non è potuto essere presente per motivi organizzativi, però ci ha lasciato il suo messaggio. Quindi do senza altro la parola a Federico Fagini. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi sentite in fondo? No. Buongiorno a tutti. Adesso mi sento anch'io. Allora, vorrei partire raccontandomi un pochino la storia della mia vita perché può spiegare la ragione per cui mi sono interessato negli ultimi trent'anni alla natura della coscienza come fenomeno sconosciuto essenzialmente alla scienza e fondamentale per quello che riguarda noi stessi come uomini, come esseri coscienti, esseri senzienti, esseri che hanno etica e che alla fin dei conti vogliono conoscere se stessi. Se uno guarda quello che uno vuole più profondamente nel sé più profondo è di capire chi siamo, dove andiamo, perché siamo in questo mondo e così via. Cosa che tipicamente la scienza considera filosofia, psicologia, qualcos'altro, ma non prendersi in serio. Io sono nato a Vicenza nel 1941, figlio di un professore di filosofia e storia, Giuseppe Faggin, che ha anche tradotto l'Enea di Plotino, ha fatto un libro di testo per i licei della storia della filosofia, ha scritto una quarantina di volumi, era un filosofo idealista, però io ero un meccanicista, quando avevo quattro anni avevo deciso che le macchine le potevo capire, gli uomini no, soprattutto i ragazzi che mi facevano gli scambetti e non mi trattavano con il rispetto che pensavo che mi fosse dovuto, mentre le macchine non mi facevano niente, a meno che non mettessi il dito nella ruota delle biciclette quando giravano. Allora questo interesse per le macchine mi ha portato a un interesse molto forte per gli aerei, io a un certo punto quando ero ragazzino volevo essere un pilota, poi per ragioni che non è il caso di discutere, ho deciso che non potevo fare il pilota, quindi volevo fare il progettista di aerei, però l'idea di dover aspettare dieci anni dopo le scuole medie, siccome mi ero interessato molto agli aeromodelli, li facevo regolarmente, ho deciso di fare la scuola, volevo diventare aperito aeronautico in modo che dopo 5 anni potevo progettare aerei e non aspettare altri 5 anni e dover fare ingegneria. Naturalmente mio padre come filosofo non era molto contento che facessi una scuola industriale, però ho insistito e alla fine ho prevalso e appena arrivato all'Istituto Rossi di Vicenza ho scoperto che avevano smesso di insegnare aeronautica e quindi ho dovuto ripiegare, ho ripiegato sulla radiotecnica perché così potevo fare un aeromodello radiocomandato, naturalmente quello era il mio orizzonte quando avevo 14 anni, 13 anni, 14 anni e verso la fine dello studio di radiotecnica, a quel tempo si studiavano le valvole, i transistori erano da 5-6 anni diventati commerciali, però non si studiavano ancora a scuola. Io mi sono interessato di computer, i computer mi sembravano un qualcosa di misterioso e volevo capire e quindi questo interesse che però ho dovuto affrontare comprando libri in francese soprattutto perché non c'erano libri in italiano ancora sui computer a quel tempo. Quando ho finito l'Istituto Industriale sono finito all'Olivetti, all'Olivetti nel 60, quando mi sono diplomato alla fine degli anni 60 sono stato assunto e poi nel 61 ho progettato in parte per il 60% e costruito per il 90% un piccolo calcolatore elettronico sperimentale usando transistor e avevo quattro tecnici che lavoravano per me, tutti i più vecchi di me, il che mi davano un certo senso di... insomma... il computer ha funzionato e verso la fine di questo periodo, verso la fine del 61 ho deciso però di fare fisica perché volevo capire come funzionavano veramente i transistor, perché i transistor per capire il loro funzionamento richiedono lo studio della fisica quantistica, perché la fisica dei cristalli che sono alla base del funzionamento del transistor è fisica quantistica. Non l'avevo mai studiata, sembrava una cosa straordinaria, misteriosa e volevo capire. E quindi ho fatto fisica con l'Ode dopo quattro anni e ho lavorato in Italia per tre anni, di cui un anno accademico come assistente incaricato insegnavo laboratorio di elettronica il terzo anno di fisica e poi ho lavorato per la ST Micro, altun'ora si chiamava SGS Virtual, dove ho sviluppato il loro processo MOS tradizionale con porta di alluminio e i primi due circuiti integrati della ST Micro usando la tecnologia MOS. A quel tempo, parlo del 67, a quel tempo la tecnologia MOS era ai primi passi e il 95% dei circuiti integrati usavano tecnologia bipolare, tecnologie bipolare che sono transistor che usano anche la dimensione verticale, in aggiunta alle altre due dimensioni, per cui non hanno la stessa capacità di essere ridotti di dimensione che hanno i MOS. Naturalmente a quel tempo neanche si pensavano a queste cose, ma io avevo intuito che il MOS era il futuro e quindi il primo progetto che ho fatto al Fairchild quando sono arrivato negli Stati Uniti nel 68 è stato un miglioramento profondo del processo MOS usando una porta di silicio che permetteva di fare una self-align gate, la porta che controlla la corrente tra i due elettrodi source e drain, automaticamente si allineava e impediva di avere queste capacità parassite eccessive che limitavano la bontà per il funzionamento del transistor, cioè lo rallentavano. Quindi questa tecnologia MOS ha prodotto dispositivi che erano 5 volte più veloci, si potevano mettere 2 volte più transistor nella stessa area, quindi a metà costo e la corrente di dispersione era ridotta in un fattore da 100 a 1000 e quindi molte applicazioni dinamiche che non si potevano fare con la tecnologia MOS di prima, si potevano fare per esempio le memorie RAM dinamiche, random access memory dinamiche, le memorie non volatili e i CCD si potevano fare e quindi tutti i pezzi mancanti per fare un computer in un singolo chip sono stati resi possibili con questa tecnologia, quindi questa è stata un'invenzione fondamentale perché hai permesso poi di fare un computer in un chip, il microprocessore, per primo che è il CPU e poi tutto il resto, già il CPU aveva bisogno di memoria dinamica all'interno e quindi non sarebbe stato possibile senza il Silicon Gate e quindi nel tempo, nel giro di 15-20 anni, la tecnologia MOS ha soppiantato completamente la tecnologia bipolare ed è diventata essenzialmente la sola tecnologia per i circuiti integrati. Questa invenzione mi ha poi portato all'Intel dove ho progettato il primo microprocessore, era un progetto che già si capiva che si doveva fare, ma era rimasto non fatto perché mancava la tecnologia per farlo, quindi si parla di invenzione ma in realtà l'invenzione era proprio la tecnologia che ha permesso di farlo e poi il farlo è quello che ho fatto all'Intel. Poi ho sviluppato tutti i loro primi microprocessori, inclusa l'8080, che è stato il primo microprocessore di grandi prestazioni, era 6 volte più veloce del 4400, mi ha permesso di fare i primi computer personali nel 74-75 e alla fine del 74 ho deciso di creare la mia prima azienda perché l'Intel a quel tempo non aveva capito che il futuro era nei microprocessori, per esempio ci ho messo 9 mesi a convincere i miei capi a farmi fare l'8080 che avevo inventato, che avevo architettato, che volevo fare e tergiversavano e quindi abbiamo perso 9 mesi rispetto alla competizione che si era accorta guardando la 4400 che quello era il futuro. e quindi ho creato la mia prima azienda all'Azallo e il primo microprocessore dell'Azallo che è stata un'altra mia invenzione, l'ultima invenzione nel campo dei microprocessori, la Z80, che ha avuto un enorme successo e ancora oggi in produzione di volume, di grandi volumi, mi dicono che se ne sono svenduti da 5 a 20 miliardi di esemplari, quindi molto più dei miei libri. E' ancora in produzione, 46 anni dopo la sua introduzione. Naturalmente passare da essere capo del progetto, a quel tempo prima di fondare la Zailo avevo 80 persone, circa 60 ingegneri e 20 tecnici che lavoravano nel mio dipartimento, era quasi tutta la rendita dell'Intel, era sotto di me, a quel tempo parlo del 74 e gestire progetti tecnologici è ben diverso di creare un'azienda da zero. Uno deve imparare un sacco di cose nuove che non hanno niente a che fare con progettare un circuito integrato, produzione, amministrazione, vendite, marketing, dove si trovano i soldi, che prezzi fare, eccetera. Quindi tutte queste cose ho dovuto impararle quando ho fatto partire la Zailo che avevo 32 anni e quindi ho dovuto avere parecchi capelli bianchi prima di aver imparato come si fa a gestire un'azienda partendo da zero. e in questa avventura, l'avventura delle varie start up che ho creato è durata circa 40 anni, mi ha portato a sviluppare altri aspetti di me. Io parlo della mia seconda vita, la vita in cui ho fatto il progettista, l'inventore di tecnologie e di prodotti, mentre la mia prima vita, naturalmente quella di cui sono nato, cresciuto, educato e così via, e prime esperienze di lavoro fatte in Italia, la seconda vita è iniziata con il mio trasferimento negli Stati Uniti, nuova lingua, nuova cultura, tutto un nuovo modo di vedere il mondo, il mondo anglosassone e naturalmente ho sviluppato molto l'aspetto intuitivo della mia mente, nella terza vita, la vita iniziata con la Zailo, ho sviluppato la pancia, cioè l'aspetto dell'azione, dell'azione coraggiosa, prendere rischi, quando uno deve scegliere che persona prendere nel marketing, quando io non sapevo quasi nulla del marketing, uno doveva fidarsi della propria intuizione e quindi ho fatto anche parecchi errori e ho imparato più degli errori che delle cose giuste che ho fatto, tutti noi impariamo sempre di più degli errori che non delle cose giuste che facciamo e quindi sono cresciuto moltissimo in un campo diverso, naturalmente usando l'intelletto, l'intuizione che avevo sviluppato prima, ma sviluppando altri aspetti di me che sono altrettanto essenziali per essere umani, nel senso più completo della parola. La mia terza ditta, la Synaptics, fondata nell'86, in quella ditta volevo creare delle macchine che imparavano da sole, usando le reti neurali di cui a quel tempo se ne parlava, che però gli addetti ai lavori, gli esperti di intelligenza artificiale, dicevano che era una idea stupida. Io invece, dopo un po' di studio, ho capito che quello era l'unico modo di risolvere i problemi di pattern recognition che i metodi precedenti non riuscivano a risolvere. i metodi precedenti erano i sistemi esperti, le persone che prendono decisioni credono di capire come prendono le decisioni, ma in realtà non è così e di fatto non riescono a creare l'algoritmo che ripeta il processo decisionale che li porta a riconoscere un pattern e quindi questi metodi che erano considerati il futuro dell'intelligenza artificiale a quel tempo non non hanno mai funzionato bene e vent'anni dopo le reti neurali sono diventate il modo in cui si sono risolti i problemi di pattern recognition e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica negli ultimi anni è dovuto appunto all'uso di queste reti neurali artificiali che rispecchiano in parte il funzionamento delle reti neurali che abbiamo nel nostro cervello. quando facevo queste, studiamo queste reti neurali a un certo punto studiavo testi di neuroscienza, testi di biologia, non avevo mai studiato questi argomenti a livello universitario prima per capire un po' come funzionano queste cose e cercare di avere altri spunti per capire come fare queste reti neurali usando naturalmente a quel tempo una tecnologia analogica, cioè facendo l'emulazione invece che la simulazione di reti neurali, in questo modo con un transistore solo potevo fare una moltiplicazione, un'addizione, uno storage a lungo termine non volatile di almeno l'equivalente di 3 bit di memoria e avere dispositivi che potevano essere usati per le reti neurali negli anni 80 quando la tecnologia non era ancora arrivata ai miliardi di operazioni per secondo che oggi i microprocessori fanno. Infatti li abbiamo fatti funzionare, funzionavano perfettamente, però ogni problema richiedeva una soluzione custom e quindi non sono mai riuscito a trovare un modo di avere 4 o 5 pezzi identici, analogici e digitali con cui si potessero poi creare sistemi qualsiasi, qualsivoglia, intelligenti e quindi ho dovuto ripiegare in un prodotto nuovo. E' così che è nato la touchpad e il touch screen perché a quel tempo i computer laptop usavano quello che si chiama trackball, c'era un mouse rovesciato dove c'era una pallina, uno muoveva la pallina, si muoveva il cursore e dopo un giorno o due, a seconda dell'uso, il grasso delle dita ingrassava la pallina, la pallina non riusciva più a far girare le rotelline che erano entraienta la pallina e quindi il cursore ballava nello schermo, bisognava pulire questo affare, pulirlo con l'alco, insomma è una grandissima seccatura. Io ho visto in questa un'opportunità e ho preso 4 o 5 dei nostri ingegneri più immaginativi, nel giro di due mesi incontrandoci una volta alla settimana facendo brainstorming siamo arrivati alla invenzione collettiva del touchpad e del touch screen. perché il touch screen è semplicemente un touchpad fatto su un materiale trasparente che si può applicare ad un display e quindi uno a tutti e due. Questa invenzione quindi, ci sono tutti i 4 o 5 nomi, 5 o 6 nomi nostri, quindi questa invenzione è un'invenzione di gruppo fatta in un clima di gioco, quindi è una bella cosa nel senso che mostra come la cooperazione può creare delle idee molto interessanti quindi attraverso un gioco, il gioco di figurarsi un problema e risolvere un problema insieme giocando, ridendo, scherzando e arrivando però a delle conclusioni che poi hanno creato una ditta che oggi vale un qualche miliardo di dollari. Allora il touch screen, il touchpad è avvenuto nel 94, nel 94 abbiamo avuto i primi esemplari e poi verso la fine degli anni 90 i telefonini erano arrivati a un punto di sviluppo che telefoni intelligenti diventavano possibili e allora io avevo visto che questi telefonini potevano beneficiare di un touch screen per fare gesti, per fare keyboard, tutto quello che si può fare avendo una keyboard programmabile che è il display sotto e quindi abbiamo cominciato a sviluppare questi touch screen per farli vedere alle ditte che facevano telefonini a quel tempo la Nokia, la Motorola, la RIM e ci ridevano dietro a un certo momento siamo arrivati all'Apple dopo, è stato stato nel 94, 95 l'Apple e l'Apple ci ha detto sì sì, li vogliamo, però vogliamo l'esclusiva e naturalmente a quel tempo non sapevamo che l'Apple voleva fare un iPhone semplicemente li facevamo vedere a tutti quelli che potevano fare dispositivi in cui un touch screen poteva essere utile e nel 2007 mi pare l'Apple è uscita con l'iPhone, si è fatta il suo touch screen l'Apple aveva già in casa la tecnologia per farsi questi prodotti, però ci è voluto un po' di tempo però hanno creato il mercato anche per noi, per i competitori dell'Apple quindi noi ne abbiamo beneficiato moltissimo dal loro prodotto altrimenti sarebbe rimasto in un cassetto e la cosa interessante è che il successo dell'Apple è stato a scapito della Motorola, della Nokia la Nokia a quel tempo aveva il 30% del mercato, 5 anni dopo ha smesso di fare i telefonini perché è stata distrutta dal telefono, dall'iPhone, dall'idea dell'iPhone e di fatto oggi quasi tutti i telefonini sono iPhone essenzialmente e la Motorola non esiste più, la RIM non esiste più, praticamente le ditte che avevano in mano l'80% del mercato sono state distrutte da questa nuova tecnologia, quindi vedete il potere di un'idea giusta che permette di fare delle cose nuove e se uno non lo capisce viene spazzato via e questo è successo molte volte nella storia dovuta appunto a molti dei prodotti che ho fatto perché per esempio i microprocessori hanno spazzato via tutti quelli che facevano calcoratrici elettromeccaniche tutti quelli che facevano anche calcoratrici non programmabili e così via quindi veramente la tecnologia porta a una rivoluzione a livello delle ditte che fanno i vari prodotti a quel tempo quando studiamo questi testi di neuroscienza, di biologia leggevo che i segnali elettrici nel cervello, i segnali biochimici nel cervello producono il funzionamento che noi come esperienza abbiamo sensazioni e sentimenti per esempio uno leggeva nel libro di neuroscienza come il gusto di una marmellata parte da certi segnali delle cellule gustative della lingua e da lì si arrivano alle reti neurali che creano delle correlazioni con questi segnali e alla fine si arriva al gusto della marmellata ma io dico un momento ma i segnali elettrici nel cervello come si possono trasformare nel gusto della marmellata? il gusto della marmellata non è uguale ai segnali elettrici e questo segno uguale che non era un uguale per niente era un problema per me come è possibile, come si fa a trasformare segnali elettrici in sensazioni e sentimenti, non in altri segnali elettrici? il computer trasforma segnali elettrici in altri segnali elettrici? non c'è risposta a questa domanda e guarda caso che la scienza spiega la coscienza attraverso questo mistero di come fanno i segnali elettrici a generare un'esperienza cosciente l'amore che provo per un figlio non è riducibile a segnali elettrici, i segnali elettrici sono correlati di questa esperienza ma come fa? quindi questo era un problema che volevo capire, a quel tempo ero materialista, avevo studiato fisica come tanti altri e ero arrivato alla conclusione che ovviamente la coscienza è un fenomeno del cervello quindi in qualche modo il cervello genera la coscienza e quando il cervello non funziona più la nostra coscienza se ne deve andare quindi anche le idee religiose o spirituali che la coscienza o che ci sia qualcosa che rimane di noi e noi venivano spazzate via con questa spiegazione che è quella che si dà ancora oggi ancora oggi la scienza ci dice che noi siamo macchine e quindi tutto quello che avviene in noi è dovuto al funzionamento di questa macchina quindi quando la macchina non funziona buonanotte ai suonatori ed è stato proprio in questo clima di intensa curiosità volevo capire anche perché a quel tempo ero scontento avevo raggiunto tutto ciò che la scienza, il mondo ci dice che se noi lo raggiungiamo dovremmo essere contenti avevo una bellissima famiglia, tutti sani, soldi, ero famoso naturalmente nel mio circolo ma avevo tutto quello che doveva farmi felice invece ero infelice, solo che pretendevo di essere felice perché avendo ottenuto tutto dovevo essere felice quindi non avevo il coraggio di guardare dentro di me all'infelicità che c'era dentro di me ed è stato appunto questo atto di coraggio che forse non avrei fatto se non avessi fatto la carriera dell'imprenditore imparando a prendere rischi ho guardato dentro di me ho capito che dovevo capire perché ero infelice ed è proprio in questo questo bisogno di capire che mi ha portato ad un'esperienza straordinaria di coscienza che mi ha cambiato la vita ero a Tao parlo del 90 1990 32 anni fa erano le vacanze di Natale la famiglia era eravamo con la nostra con la famiglia a sciare e una notte mi sveglio a mezzanotte avevo sete sono andato a prendere un bicchiere d'acqua torno a letto e cerco di addormentarmi normalmente come si fa a un certo momento dal mio petto esce una fascia di luce scintillante potente come una specie quasi come acqua che uscisse da un idrante così scintillante e scintilla anche questo e questa questa energia era un amore così potente e così incredibile che non avevo mai provato un amore così potente e incredibile ma era mischiato a gioia ed era mischiato a un senso di essere a casa mia cioè era arrivato a toccare l'essenza di chi sono e in un certo momento questo questo fascio scoppia e pervade tutto pervade tutto lo spazio della mia osservazione e capisco che tutto tutto quello che esiste è fatto di questa energia scintillante non solo ma mi riconosco in questa energia scintillante allora io sono il tutto che osserva se stesso però con il punto di vista mio quell'identità che era mia prima dell'esperienza era anche esisteva anche in questa esperienza per cui in questa esperienza ero il tutto che osservava se stesso con un punto di vista speciale particolare il mio punto di vista la mia identità il mio corpo vibrava fisicamente come se le cellule risuonassero con questa esperienza che che era dal punto di vista fisico era questa 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 vibrazione del mio corpo a livello mentale era io sono il tutto a livello emotivo era amore gioia e pace e a livello spirituale era la prima esperienza che ho riconosciuto come esperienza spirituale perché io ero il tutto quindi ero collegato con il tutto ero una parte del tutto ma anche il tutto avevo il tutto dentro di me ma ero anche parte del tutto guarda un po' oggi dico la stessa cosa ci sono furti trent'anni per arrivare a dire quello che dirò in questo subito subito dopo guarda un po' che il nostro corpo è fatto nella stessa maniera e questa è una proprietà degli ologrammi dove una parte contiene il tutto una parte dell'ologramma contiene il tutto quindi una parte del tutto contiene il tutto questo già esiste nella fisica degli ologrammi il mio corpo è fatto di 50 trilioni di cellule ogni cellula ha dentro di sé il genoma dell'intero organismo perché è lo stesso genoma che c'era nell'uomo fecondato che ha creato l'organismo quindi anche noi anche il nostro corpo che è una struttura fisica è fatto a immagine e somiglianza del tutto quindi ed è una organizzazione olografica il fatto che noi che il corpo nostro sia creato nello stesso modo in cui il sé più vasto è una parte del tutto è un aspetto di autosimilarità quindi un frattale ci sono i fruttini della matematica che sono altri oggetti che sono frattali in cui la stessa struttura è ripetuta a scale diverse quindi vediamo che la realtà non è fatta di parti separabili come ci dicono i materialisti le particelle non esistono come ci dicono i materialisti le particelle di fatto la fisica quantistica ci dice sono stati di campi ma questi stati dei campi non sono separabili dai campi sono stati che sono parte del campo integrali nel campo e possono essere collegati da dentro in modo che appaiono con correlazioni che non sono le correlazioni di oggetti che sono separabili queste correlazioni particolari di questi stati e l'entanglement di cui ci parlava prima Roberto e che non non si possono spiegare con la fisica classica è l'entanglement che oggi due settimane fa ha visto il premio Nobel dato a tre dei ricercatori che hanno dimostrato sperimentalmente che l'entanglement quantistico esiste quindi in un certo senso questa esperienza che ho avuto è stato un preview di quello che vi dirò fra poco che è la prima teoria della coscienza che è stata come dire anticipata come esperienza personale 32 anni fa e che oggi invece viene ad essere matematicizzabile e esprimibile come fatto o come in questo caso Duc è fatto come assioma assioma matematico fisico che permette di capire per la prima volta che cos'è la coscienza mi fermo qua forse tu hai qualche domanda sì grazie moltissime prego di aver condiviso con noi di aver provato a condividere con noi anche questa esperienza che normalmente viene classificata come stato non ordinario di coscienza però diciamo quindi è difficile diciamo condividerla realmente però diciamo ti ringraziamo per aver provato a condividerla è un po' come spiegare il come dire i colori una persona che purtroppo non vede o spiegare i suoni una musica una persona che purtroppo non sente quindi diciamo è molto difficile poter comunicare questo tipo di esperienza però diciamo almeno ci fa capire che esiste questa possibilità che poi è tipica in realtà di moltissimi mistici e scienziati di tutta la storia qua tra di noi c'è il vicepresidente dell'associazione che tra l'altro è mio fratello Giuseppe Germano che ha studiato a lungo i manoscritti di Legarda di Bingen che è una famosa scienziata filosofa dottoressa mistica tedesca medievale che per esempio aveva ordinariamente questi stati non ordinari diciamo così quindi diciamo esiste anche questa possibilità abbiamo tra noi anche Piero Camerinesi che ha fatto un documentario per esempio che si chiama proprio oltre sulla storia dell'esperienza di Massimo Scaliggio che lui ha conosciuto personalmente come maestro quindi sono cose che diciamo come dire è bene sapere che esistano tu a pagina 143 di questo tuo ultimo saggio per esempio dici la vera intelligenza non è algoritmica ma è la capacità di comprendere cioè di intusleggere ossia di leggere dentro intuire di capire in profondità e di trovare connessioni insospettate tra scivoli diversi che assomiglia molto al titolo di questa delle connessioni in attesa quello che diceva Giulia Poincaré dopo tutto siamo noi che abbiamo inventato il compito quindi diciamo dovremmo capire che la scienza serve proprio illuminare quelle zone che non sono ancora illuminate altrimenti non è scienza c'è la famosa barzelletta di quello ubriaco che in pratica aveva perso aveva perso le chiavi e quindi stava cercando queste chiavi a terra si avvicina un poliziotto e gli dice guarda ti posso aiutare che tu stai cercando e lui stava cercando le chiavi sotto un lampione in mezzo alla strada a un certo punto l'ubriaco dice sì ma io sto cercando che se non le riesco a trovare sono quelle da 20 minuti e lui dice ma tu hai la percezione dove puoi averle perse dice sì io le ho perse lì scusami ma allora perché le stai cercando qui da tanto tempo è perché qua c'è la luce diciamo questa è la tendenza tipica di quella della scienza moderna spesso si comprano attrezzature e poi ci si chiede cosa posso fare con queste cosa posso misurare con queste attrezzature invece di cercare di capire cosa andare a vedere oltre questo è il punto almeno non so tu come la pensi d'altronde tu hai intitolato il tuo saggio irriducibile ci sarà un motivo tu hai già accennato che la coscienza in questa visione è irriducibile cosa intendi esattamente con questo tema io lo so benissimo allora che irriducibile si riferisce al fatto che la coscienza non è un fenomeno del cervello se fosse un fenomeno del cervello sarebbe riducibile perché quando il cervello non funziona più la coscienza non c'è più è irriducibile perché la materia non ha creato la coscienza ma è esattamente l'opposto è la coscienza che ha creato la materia quindi questo è un rovesciamento totale di quello che dice oggi la scienza e mi rendo conto che molti scienziati cominciano a essere un pochino come dire turbati da questo perché perché è un rovesciamento di quello che hanno detto dagli ultimi duecent'anni prima la scienza non era ancora matura per diventare una come dire per essere capace di pensare di poter spiegare tutto ma negli ultimi cinquanta cent'anni gli scienziati pensano che si può spiegare tutto con il materialismo però il materialismo non è riuscito a spiegare per nulla il fenomeno della coscienza e oggi i materialisti ci dicono che i computer saranno coscienti magari non fra vent'anni ma fra cinquant'anni non solo ma addirittura noi potremmo scaricare la nostra coscienza in un computer e vivere per sempre questo è una cosa abbastanza forte da dire e la teoria che ho fatto insieme al professor D'Ariano Giacomo Mauro D'Ariano che è un professore di fisica teorica all'università di Pavia un esperto di informazione quantistica l'autore di una nuova teoria si chiama OPT Operational Probabilistic Theory una teoria che spiega che la fisica quantistica emerge interamente da sei postulanti che sono puramente informatici sono postulanti che si basano sulla informazione quantistica che è una sono novità degli ultimi trent'anni della fisica in cui l'informazione quantistica è vista come più fondamentale della materia più fondamentale delle particelle più fondamentale degli stati dei campi e quindi e quindi l'informazione quantistica è vista come quantum bits bit quantistici che vi spiegherò in un secondo cosa sono bit quantistici che interagiscono tra di loro e sono interconnessi attraverso l'entanglement quantistico quindi questo integome quantistico è fondamentale nella spiegazione di questi sistemi quantistici allora il quantum bit è una estensione al mondo quantistico del bit classico il bit classico è 0 o 1 bit il bit classico è o 0 o 1 è il bit dei computer due stati il bit invece quantistico è rappresentabile da un vettore nello spazio a tre dimensioni quindi il vettore nello spazio a tre dimensioni può puntare a ciascun punto sulla superficie di una sfera quindi ogni punto sulla superficie della sfera rappresenta uno stato possibile per il qubit il quantum bit quindi il quantum bit è un'infinità di stati mentre il bit classico è 0 o 1 due stati una proprietà fondamentale del quantum bit essendo informazione quantistica l'elemento fondamentale di informazione quantistica è che non si può copiare l'informazione quantistica che sia un quantum bit o un insieme di quantum bit entangle non si può copiare ma cosa vuol dire informazione che non si può copiare questa è una domanda che ci siamo fatti con Dariano e la risposta è che un sistema quantistico in uno stato quantistico ha l'esperienza del suo stato quindi l'esperienza è la l'ontologia l'ontologia ontologica mentre la rappresentazione dell'esperienza è l'informazione quantistica lo stato quantistico quindi non si può conoscere perché solo il sistema che in quello stato può conoscersi da dentro capite che questo connegamento che sembra banale è come l'uovo di colombo che permette di connettere il mondo teorico che descrive la realtà con il mondo ontologico che non è più della materia ma è dell'esperienza quindi l'esperienza è più fondamentale della descrizione dell'esperienza d'altra parte lo sappiamo anche noi quando io sento amore per un figlio e lo esprimo in simboli i simboli che uso per esprimere l'amore del figlio non sono adeguati a spiegare tutto quello che sento dentro di me c'è sempre qualcosa che rimane inespresso quando io voglio spiegare o comunicare quello che sento quindi l'esperienza è molto più ricca l'esperienza essendo rappresentabile da informazione quantistica che non è copiabile che non è clonabile che può solo essere conosciuta da dentro è molto più ricca di quello che posso esprimere con simboli classici che sono condivisibili perché i bit si possono copiare le parole mie le sentite tutti se io se le parole fossero esperienza fossero informazione quantistica nessuno le potrebbe sentire perché se no sarebbero clonate violerebbe il teorema della non clonazione della fisica quantistica quindi le parole sono bit sono esprimibili da bit classici si possono copiare e così via quindi un computer non può essere cosciente perché la coscienza è un fenomeno puramente quantistico il programma del computer si può copiare se il computer fosse cosciente la privacy il fatto che la nostra esperienza è privata solo nostra la possiamo conoscere solo noi da dentro sarebbe violato il fatto che quindi perché il computer il suo programma che sarebbe l'aspetto cosciente del computer può essere copiato in altri computer quindi non ci sarebbe una coscienza con la proprietà fondamentale della coscienza che è di essere conosciuta solo da dentro dal possessore della coscienza del sistema che è cosciente del sistema che è in uno stato rappresentabile dell'informazione quantistica uso parole lunghe cioè descrizioni lunghe perché? perché noi spesso pensiamo che la descrizione della realtà sia la realtà ma non è così la teoria della realtà non è la realtà la descrizione della realtà è informazione quantistica ma la realtà è l'esperienza che abbiamo dentro di noi è una cosa incredibile questa perché cambia tutta l'accezione tutta l'idea che abbiamo di cos'è scienza perché scienza ha a che fare con il conoscere e solo la coscienza è quella che ci permette di conoscere veramente attraverso un'esperienza di conoscenza che è un'esperienza cosciente quindi l'idea dei nostri padri antenati che conoscere se stessi e conoscere il mondo come se stessi sia l'aspetto fondamentale della realtà secondo me è perfetta perché calzante perché è esattamente quello che sentiamo tutti noi e se noi siamo parti intero di uno ecco che uno vuole conoscere se stesso attraverso le sue emanazioni che siamo noi grazie grazie interessanti che appunto la bozza è la teoria anarchica e la conoscenza contro il metodo si intitola lui in realtà aveva avuto come professore ai primi anni di fisica che era uno sperimentale molto bravo in quale faceva vedere ai suoi studenti non l'esperimento perfetto non gli esperimenti perfetti ma faceva vedere laddove gli esperimenti in realtà non non si trovavano con quello che era il modello che lui raccontava agli studenti c'era un modello ma c'era l'esperimento adesso addirittura invece c'è qualcuno che ipotizza di far fare il laboratorio degli studenti con le simulazioni del computer quindi la follia è assoluta perché siamo proprio alla totale incomprensione di cosa sia davvero un metodo scientifico quindi è molto pericoloso è molto importante quello che hai detto voglio aggiungere un punto qui che per sottolineare quello che hai detto c'è la realtà c'è una teoria della realtà e c'è una simulazione della teoria della realtà il computer fa la simulazione di una teoria della realtà quindi è due gradi di separazione dalla realtà poi ti chiedo sì sì grazie grazie giustamente quindi è ancora ancora peggio diciamo tu nel tuo saggio parli addirittura di seiti e diciamo è evidente a tutti in realtà una cosa ne pensavi anche del fatto che questa visione in effetti assomiglia moltissimo a quella che è diciamo non so se sei d'accordo e quindi magari chiederti anche se hai avuto degli stimoli da questo tipo di ambito e come discutere un po' questo tipo di ambito dunque la sorgente fondamentale di questa teoria è soprattutto dovuta a esperienze non ordinarie di coscienza quindi invece di partire come tipicamente si parte cioè leggendo delle cose studiando i testi di varie persone può arrivare una propria interpretazione e discuterla io sono arrivato a gran parte di quello che dico attraverso esperienze come quella che vi ho raccontato ne ho avute moltissime ho lavorato su di me prima di arrivare alla conclusione che la coscienza deve essere un fenomeno fondamentale ho lavorato per un vent'anni quindi a partire dal 90 fino al 2000 a 2009 ho lavorato usando 30-40% del mio tempo attraverso varie discipline partendo dalla meditazione e poi via via allargandomi a altri modi di cercare di capire la natura della coscienza e attraverso questi metodi non usando droghe sono arrivato alla comprensione di un primo modello della realtà basato su quello che ho sperimentato quindi è una in certo senso una scienza sperimentale anche la mia solo che gli esperimenti sono dentro di me invece che essere fuori nel laboratorio perché la coscienza è un fenomeno privato conoscibile solo da chi ce l'ha e allora questa diciamo dopo aver capito queste cose naturalmente anche insieme leggevo anche un po' cercavo di capire il pensiero di altri e così via e quindi ho scoperto che moltissime delle cose che avevo sperimentato erano riportate anche da altri quindi quindi questo mi ha anche dato molto conforto perché mi ha detto sì non sono il solo matto ma ce ne sono anche degli altri e quindi perché poi se la realtà è una ci devono essere delle connessioni profonde e quindi la mia esperienza è riconducibile all'esperienza di un altro e di fatto è la ragione per cui possiamo capirci quando parliamo quindi ho trovato in molte per esempio citazioni esattamente quello che ho provato io ma non ho usato la citazione per poi dire quello che penso anch'io ma per dire che questo è quello che ho provato e che una bella differenza c'è la differenza è tra ripetere vi faccio un esempio supponiamo che io scrivo un articolo sul sapore della marmellata di ciliegie voi non avete mai mangiato né marmellata né ciliegie quindi leggete questo articolo è interessante capite quello che dici le parole però non sapete assolutamente nulla del sapore della marmellata di ciliegie perché non ve ne do un cucchiaino voi l'assaggiate e poi dite ma che bella descrizione che c'era in quell'articolo sulla marmellata delle mele perché adesso capite quello che ha detto l'articolo quindi uno che legge un articolo e ripete quello che dice l'articolo come fanno molti scienziati senza capire senza avere l'esperienza della marmellata delle mele uno dice sì sono d'accordo con questo però non sanno quello che dicono perché se uno parla di qualcosa che è sperimentabile dentro di noi deve avere l'esperienza dentro di sé e noi spesso non facciamo altro che ripetere quello che leggiamo da qualche parte invece di capire conoscere il conoscere il capire è una proprietà fondamentale della coscienza è quello che fa la coscienza la coscienza è quello che permette al sé la chiamo seiti perché la parola sé se uno parla con i psicologi c'è tutta una definizione se uno parla con gli scienziati c'è un'altra se uno parla con persone di varie discipline spirituali della religione per cui per evitare qualsiasi confusione siccome la parola seiti è una parola inglese che è usata pochissimo posso dargli il significato che intendo e quindi senza avere dopo gente che mi chiama e dice ma il sé non è così il sé cos'ha eccetera eccetera quindi per evitare confusioni uso una parola poco usata che mi permette di dare dei significati precisi che sono quindi senza creare confusione quindi la seiti è un sé un sé particolare che ha tre caratteristiche è cosciente sa di essere cosciente e quindi sapendo di essere cosciente quindi è autocosciente ha una identità propria questa identità che gli permette di poter esplorare la sua conoscenza con libero arbitrio perché se non sapesse di essere cosciente non potrebbe farlo per esempio un computer quantistico secondo la definizione della coscienza che ho dato prima ha coscienza del suo stato ma non esiste il computer come un ente con un'identità propria quindi ha coscienza finché è nello stato puro poi la coscienza sparisce e non può dirigere la sua la sua esperienza perché non ha libero arbitrio perché non è cosciente di essere un'entità che può dirigere se stessa quindi c'è una differenza molto importante qui c'è la differenza tra autocoscienza e solo coscienza coscienza e come c'è c'è una c'è solo qualia ci sono sensazioni e sentimenti ma nessuno che le prova ci sono sensazioni e sentimenti ma nessuno che le prova quindi non c'è il senso di sé che permette di poi decidere cosa guardare o cosa non guardare di fatto un computer quantistico è deterministico vuol dire che segue delle trasformazioni nel gergo della scienza sono trasformazioni unitarie che non permettono di sgarrare se è come un computer classico l'unica differenza che fa le operazioni molto più velocemente di un computer classico tutto qua non c'è nulla di più quindi quando uno dice ah la coscienza ha detto che sei quantistica quindi il computer quantistico sarà cosciente ti ho beccato no non mi hai beccato per niente perché il computer quantistico può avere coscienza ma non può avere il libero arbitrio e quindi farà esattamente quello che gli abbiamo detto di fare di fatto se non facesse quello che abbiamo detto di fare non lo vorremmo nemmeno perché un computer che si dice scusi devo andare in bagno non lo vogliamo no o devo prendere una vacanza non lo vogliamo vogliamo un computer che faccia quello che gli diciamo noi quindi un computer con libero arbitrio non lo vogliamo però vogliamo avere una porticina da dietro dove diciamo al computer quello che vogliamo che faccia e spesso non diciamo agli altri che abbiamo manipolato il computer con la porticina di dietro e questo è il problema di oggi vogliono farci pensare che noi siamo macchine le macchine che faranno loro saranno più potenti di noi e saranno automatiche non ci sarà nessuno cioè sono così così brave che noi dobbiamo seguire agnellini quello che dicono ci diranno le macchine dell'intelligenza artificiale che loro dalla porticina di dietro controlleranno ha 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 in effetti lo riediamo a tutti colto e a questo punto è molto scientifico. Io tra un po' vorrei dare, diciamo, non so se sei d'accordo, inizio alle domande perché credo che ci siano molte domande. Solo una domanda, faccio la prima domanda anche se non dovrei farlo. In pratica prima tu hai parlato, ovviamente, dell'esperienza delle prime vite in cui hai dato origine a dei cosiddetti breakthrough tecnologici, anche in Italia si usa questo termine che in inglese diciamo perché è molto diffuso ormai, quindi delle rivoluzioni tecnologiche che hanno poi ammazzato una serie di altre tecnologie e spesso non sono state intuite anche da chi aveva praticamente l'80% del mercato. Però una domanda, tu intervedi attualmente in nuovi tipi di conoscenze, ad esempio, ti suggerisco, diciamo, gli studi sull'acqua, la possibilità che possano essere sulla soglia di dare origine a nuovi breakthrough tecnologici, oppure altri ambiti che tu in questo momento intervedi, essendo tu, insomma, uno che ha una certa esperienza di breakthrough tecnologici, magari ne intervedi altri. Quindi una domanda molto, tra virgolette, pratica rispetto a quello di cui parleremo dopo. Benissimo, sì, assolutamente per me l'ambito più ricco di breakthrough tecnologici è quello dei sistemi viventi, degli organismi viventi, infatti uso nel libro deliberatamente la parola organismo invece che sistema, perché la parola sistema ci porta subito a una descrizione riduzionista della realtà, mentre la vita non è riduzionista, è anche riduzionista, ma è di più, va oltre al riduzionismo, è olistica e riduzionistica. Di fatto la vita interagisce con l'ambiente in maniera così potente che per esempio una cellula, due giorni dopo, non ha un atomo dentro di sé che esistesse due giorni prima, perché la materia entra e esce da questa cellula continuamente. Deve farlo, peraltro, perché la cellula deve dividersi, quindi materia deve entrare all'interno di sé, deve organizzare un'accellula simile se non identica a se stessa e poi si divide in due e quindi abbiamo la riproduzione. Avete mai visto un computer partorire voi? Partorire vuol dire un computer che partorisce hardware e software. La gente ci racconta che il computer è come la vita perché riproduce il programma, ma siamo matti, ma siamo matti e noi ci crediamo. Il computer copia il programma, ma non riproduce il computer dentro di sé e si divide in due e in questo modo faremo molti più soldi, perché non abbiamo bisogno di fabbriche, perché il computer si auto, si crea copie di sé stesso. Quindi la vita è completamente oggi sconosciuta, non capita per niente. I biologi studiano la vita come se fosse un fenomeno biochimico, ma non è un fenomeno biochimico. La vita è informazione quantistica, informazione classica che interagisce a un livello così potente, così inconosciuto oggi, che i misteri fondamentali che erano davanti sono i misteri della vita. Tu nominavi l'acqua prima, l'acqua che c'è all'interno delle cellule non si comporta come l'acqua di questo bicchiere, per esempio. Già molti scienziati lo hanno fatto rilevare, per esempio tu nominavi Emilia del giudice prima, il quale ha studiato questi fenomeni insieme ad altri, montagne e così via. L'acqua ha proprietà per esempio fisiche che vanno al di là di quello che conosciamo e addirittura, siccome sono proprietà che nessuno ne ha scoperte della ortodossia della scienza, tipicamente sono ostracizzate perché la scienza vuole mettere bordi gli scienziati ortodossi, chiamiamoli, che controllano i gates, vogliono mettere bordi che non sono superabili, che non è scientifico, perché la scienza vuole capire, non può avere scatole chiuse e oggi è parte del problema, è questo che la scienza se non stiamo attenti sta diventando un'altra religione, quindi è importante che la scienza mantenga l'apertura a capire i fenomeni senza pregiudizi, perché i pregiudizi sono quelli che impediscono di fare progresso. Si intravedono nel periodo attuale una serie di tabù legati alla conoscenza che potrebbero anche essere legati al potere dell'apparato militare industriale, che ovviamente come un'azienda privata non vuole far sapere il proprio know-how ai competitors, perché ovviamente non vuole essere sorpassato dai competitors, così accade per l'apparato militare industriale che non vuole che altri conoscano certi ambiti perché sono molto potenti. Quindi diciamo che secondo me c'è anche questo aspetto che è molto importante, non so se vuoi rispondere a questa cosa. Semplicemente sì, sono d'accordo con questo e chiaramente il segreto militare è ancora più forte, è ancora più protetto e non il segreto industriale, quindi questo non c'è proprio. Comunque volevo dire questo, che in questa nuova visione che parte dalla teoria con il professor Dariano, dice questo, che la coscienza e il libero arbitrio sono fenomeni puramente quantistici, quindi esistono in una realtà più vasta, da cui emerge la realtà fisica che è quantistica e classica, dove esistono anche organismi viventi che sono strutture quantistiche e classiche, quindi di una capacità di processing dell'informazione straordinariamente maggiore di quello che fanno i computer classici e anche i computer quantistici come li abbiamo immaginati, perché sono collegati, la vita è collegata in maniera fondamentale con il vuoto quantistico e dipende dal vuoto quantistico per avere le comunicazioni tra la coscienza e la vita. La coscienza non può interagire direttamente con un computer classico, il computer classico è puramente classico e non c'è la possibilità di comunicare dalla coscienza direttamente al computer classico, ma può comunicare la coscienza attraverso un organismo vivente a un computer classico, quindi l'organismo vivente fa da traduttore tra quello che vuole la coscienza e questo mondo classico in cui la coscienza vuole avere un'esperienza attraverso l'organismo vivente che fa da tramite, quindi l'organismo vivente esiste per un po' finché la coscienza vuole fare questa esperienza e poi quando l'organismo muore, la coscienza rimane, cioè la coscienza c'era prima dell'organismo vivente e c'è dopo l'organismo vivente, quindi il problema della… non abbiamo bisogno di un computer per scaricare la nostra coscienza e vivere per sempre, perché viviamo per sempre in ogni caso ragazzi, where? Per un sistema di potere che utilizza la paura e la morte per tenerci sotto scappo, questi sono concetti rivoluzionari e quindi chiaramente non si ama, non si vuole tanto che le persone non abbiano paura della morte, perché altrimenti sono capaci di essere coraggiosi, quindi questo è sicuramente un problema per il potere. Allora io darei inizio a domande e chiedo, allora se per favore, in quell'angolo c'è Simonetta e Luca che aiuteranno chi deve fare domande, prenotatevi e venite qui, direi a quel microfono lì in modo che verrete anche ascoltati da tutti e ripresi dalla videocamera. Prego. Mi raccomando chi deve fare la domanda, alza la mano e viene qui. Ah, vi chiedo solo di non fare domande eccessivamente dunque, diciamo che io vi cronometro, al terzo minuto, che è moltissimo, vi blocco. Prego. Prese, presentati. Allora, mi chiamo Fulvio Sagiomo e sono un insegnante di storia e filosofia e mi interesso insomma di discipline spirituali e diciamo anche di fisica quantistica nei ritagli di tempo. Allora, la mia domanda sarà molto molto breve, ma è tutto sororato di conoscerla perché insomma Federico Faggin è l'uomo della Silicon Valley, ricordo un vecchio articolo degli anni 80. Allora, la domanda è questa, userò un attimo i termini che lei ha adoperato nell'ultimo libro, cioè l'ambito simbolico e l'ambito semantico. Allora, chiaramente questo nuovo modello fisico, dal punto di vista simbolico, quindi sull'ambito simbolico, può essere trasferito e riprodotto chiaramente come modello fisico, ma questo non rischia di creare un ulteriore modello in mezzo ad altri modelli, cioè mi spiego, ha mai pensato lei a fornire un canale, una via, un sistema per riprodurre il momento sorgivo da cui è nata questa grande intuizione? Cioè mi spiego, magari dato che questo nuovo modello si fonda su un'esperienza viva, concreta, su un vissuto, ecco, credo che la cosa molto più importante per questi tempi che stiamo vivendo è che quante più persone possibili possano rivivere il momento sorgivo dell'intuizione. Quindi lei ha mai pensato a questa evenienza? Grazie. Sì, certo, è chiaro che se per capire la cioccolata bisogna assaggiarla, bisogna essere in grado di dare l'assaggio della cioccolata a più persone possibili. È chiaro però che le persone che assaggiano la cioccolata hanno il libero ambito di volerlo fare o meno. Quindi il problema oggi è che molta gente non pensa che sia possibile, cioè diranno io sono matto, chiaramente è vecchio, quindi sì ha fatto delle cose importanti, però oggi è un deficiente perché è incipiente demenzia e quindi ragazzi non ascoltate un demente perché non vi porta fuori strada. Quindi noi usiamo tutte queste tecniche per abbonire la gente e non far sì che la gente guardi dentro di sé e capisca che hanno queste possibilità. Perché la possibilità, l'avete tutti, bisogna aprirsi alla possibilità. Un momento in cui uno vuole capire se stesso, non imitare un altro, ma capire se stesso e deve capire che dentro di sé ha questo potere, quindi si apre a se stesso che è un sé più vasto e queste esperienze vengono naturalmente, non c'è la pillola. La gente oggi si prende l'LST oppure la psilocybin oppure altre trovie per avere esperienze spirituali. Ma ragazzi, come fa qualcuno a dire ho avuto un'esperienza spirituale che deve essere spontanea, deve venire da dentro, è indotta da sostanze chimiche, chi lo sa cosa fanno al cervello. Quindi le mie esperienze sono venute spontaneamente perché voglio capire, perché mi apro a capire, mi apro a ricevere. Uno riceve da un sé più vasto, perché tutti siamo sé più vasti, nel mio modello, nel mio modo di pensare, quando il mio corpo cesserà di vivere, io mi ricongiugo con questo sé più vasto che sono io, lei con il suo sé più vasto, insomma ci sono probabilmente molte gerarchie di sé, ma comunque ci riconosciamo con qualcosa di più vasto di noi, che è quello che adesso io mi apro e che mi fa avere queste esperienze e mi dicono che la realtà è molto più ricca di quello che pensavamo. In realtà la scienza oggi ci costringe a pensare che siamo così piccoli da essere macchine. Ma scusate, cerchiamo di capire chi siamo, ma questo lo dobbiamo fare guardando dentro di noi, non guardando un altro che ci dice cosa fare. Io semplicemente vi sto incoraggiando a guardare dentro di voi, non a imitare le mie esperienze, le mie esperienze sono mie, le vostre saranno diverse dalle mie e quindi ciascuno di voi deve, se pensa che ci sia del vero in quello che dico, devono guardare dentro e soprattutto si comincia col guardare quello che è la sofferenza che uno ha dentro di sé, che è proprio la sofferenza che uno ha dentro di sé che rivela qualcosa di prezioso e di importante. Se uno non è disposto a affrontare la propria sofferenza, non farà i passi necessari per conoscere chi è. Chiusando il suo pensiero si potrebbe dire che occorre questa tensione di porsi in ascolto di sé stessi e di aprirsi al mondo. Esatto, 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 cioè dobbiamo prendere atto del nostro potere, il mondo ci vuole togliere il nostro potere perché vuole controllarci e quindi dobbiamo noi avere il coraggio, il coraggio, la pancia, però anche il cuore, il cuore che si è aperto nell'esperienza del risveglio è solo quello che può arbitrare in maniera giusta, etica, la testa e la pancia. Quindi l'azione coraggiosa e l'intuizione e la razionalità devono essere armonizzate, devono diventare empatiche, devono promuovere la cooperazione invece che la competizione perché oggi siamo diretti da un principio competitivo che è la sopravvivenza del più adatto. Questo è un altro principio straordinariamente negativo perché ci porta soltanto a lottare uno contro l'altro e con la scusa che è così che fa la natura. Invece le nostre 50 trilioni di cellule che devono lavorare insieme perché io possa uscire da questo vicolo invece che disfarmi nella lotta tra queste cellule che vogliono sopravventare il sopravvento, è una dimostrazione chiara che c'è molta più cooperazione che competizione nel mondo e nella realtà e nella biologia. Grazie. Ovviamente sappiamo che ci sono teorie di successo che piacciono al potere e studi che piacciono al potere e studi che non piacciono al potere, abbiamo detto anche prima. Non è un caso che il darwinismo, che è, diciamo, l'essere 13 anni nel testo di Darwin, interessantissimo, bellissimo, però diciamo che è chiaro che il potere ne ha fatto un uso abbastanza particolare. Un'altra domanda, prego. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare Federico Fergin per gli spunti che ci ha dato di meditazione, di, diciamo così, di introfessione nel nostro interno perché è una cosa fondamentale. Ora, la sua posizione sul problema delle sostanze stupefacenti o psicotrofe già ce l'ha espressa proprio in questo momento. Solo che vorrei fare questa domanda. All'inizio degli anni 2000 ci fu questo psicologo americano che è Rick Strassman che ha fatto degli studi sulla dimetitriptamina, che è una sostanza prodotta spontaneamente dalla nostra ghiandola pineale durante il sonno profondo e che è quella che probabilmente è responsabile della produzione dei nostri sogni. E questi studi fatti da Strassman sull'effetto della dimetitriptamina sul cervello gli ha permesso poi di ipotizzare che la macchina del nostro cervello funziona grossomodo come una radio. Cioè, secondo la tipologia, diciamo così, di sostanze che vengono prodotte al suo interno si può sintonizzare su vari stati di coscienza, quindi anche su vari stati di esperienze e quindi entrare in contatto con vari mondi in cui esistono creature diverse. Volevo sapere la sua posizione rispetto a questo argomento. Benissimo. Allora, da come lei ha espresso la situazione, sembra che questa sostanza particolare sia la causa dell'effetto. Ed è proprio lì il problema, che l'effetto viene prima. Cioè, la scienza oggi ha rovesciato causa ed effetto, perché la causa è sempre materiale, la causa è una sostanza chimica, invece è la coscienza che è la causa prima, attraverso il libero arbitrio. E quindi, però, la coscienza incarnata, cioè la coscienza incarnata che crede di essere il corpo, quindi io uso la parola ego in questa accezione, cioè quella parte della nostra coscienza più vasta che crede di essere il corpo, che è identificata con il corpo, presta attenzione soltanto ai segnali prodotti dal corpo. Quindi, se ingestiamo una sostanza che cambia i segnali prodotti dal corpo, la coscienza ha un'esperienza diversa, quindi sì, la sostanza ha impatto sul corpo, però la vera decisione che si fa dopo è fatta dalla coscienza. E quindi è importante capire che la causa prima è il libero arbitrio della coscienza, non le sostanze chimiche. Quindi il successo che sta avendo in questo momento anche in certi circoli, per esempio l'uso della vogliasca e così via, cioè comunque sono, secondo lei, gli strumenti superflui, perché comunque la coscienza può fare le sue esperienze indipendentemente dalla sostanza. Esatto. Ha un pensiero personale sulla possibilità che dei centri di potere possano cercare di danneggiare, per esempio, la produzione spontanea di dimetiltriptamina all'interno del nostro cervello per ridurre il nostro potenziale di coscienza? Non lo so, per dire la verità, non posso commentare su questo. Certamente che ci sia un bisogno anche non complottista di controllo, questo c'è, l'abbiamo tutti bisogno di controllo, quindi anche senza creare idee che ci siano complotti dietro alle nostre spalle c'è questo bisogno di controllo ed è spontaneo e quindi dobbiamo in ogni caso difenderci da questo bisogno di controllo che esiste. Grazie. D'altronde chi usa per esempio la Yahuasca quando racconta la sua esperienza spesso dice che ha dovuto fare un sacco di libri, per esempio si legge che ha dovuto fare un sacco di trattamenti spesso prima di avere davvero l'esperienza. Quindi appunto può essere come giustamente si diceva uno stimolo ma non in realtà è sempre la coscienza che poi decide diciamo quando è voluto. Prego, presentateli prima quando fate le domande, grazie. Salve, piacere professore, io sono un medico, mi chiamo Rossella Mollo medico da oltre 30 anni, mi occupo di acupuntura e di medicina quantistica quindi di terapie quantistiche informazionali basate sui cristalli quindi per me la lezione di oggi, grazie a Roberto che mi ha invitato è stata particolarmente illuminante. Quindi io volevo dare un mio piccolo contributo perché quando lei ha parlato a proposito di coscienza, a proposito della sua esperienza nel Natale del 90 un anno sicuramente da ricordare e grazie anche per averla voluta condividere con noi io ho avuto un paio di giorni fa un'intuizione, Roberto, che volevo condividere con voi perché in qualità di medico io ho studiato e ho anche portato nelle mie relazioni come spunto di riflessione la presenza della laminina la laminina è una glicoproteina che vi invito ad andare a vedere in internet l'immagine della laminina alla forma di una croce con un raggio più corto e un raggio più lungo e in realtà è quella glicoproteina che tiene unita la materia perché noi sappiamo dal grande milio del giudice che l'ha detto in varie lingue e in varie maniere che noi siamo fatti per il 99% come numero di molecole di acqua ma come mai che la bottiglia di acqua che è fatta come numero di molecole dal 96% il resto è sale, minerali e noi invece siamo il 99% noi siamo compatti l'acqua invece se la giro si versa perché c'è qualcosa che ci tiene unita io pensavo sempre, ripetevo anche un po' a pappardella no, noi siamo energia tenuta insieme da un campo elettromagnetico ma lo ripetevo senza una reale consapevolezza ecco allora due giorni fa mi è venuta in mente questa cosa e ma vuoi vedere che allora è la laminina che ha la forma di croce che è un'immagine del microscopio elettronico fantastica che tiene unita la materia e che quindi magari fa parte di tutto il nostro corpo cioè sta in tutto dalla punta dei capelli alla punta dei piedi e che è quella, l'anello mancante e mentre lei parlava ho avuto un'immagine come se il cuore da cui lei ha visto uscire i raggi e mi viene in mente il sacro cuore di Gesù i raggi che escono dalle iconografie cristiane, cattoliche mi è venuto in mente come fosse una specie di correggetemi, non sono tecnica un condensatore, una macchina che come se attraesse tutta questa laminina che sta da tutte le parti del corpo un po' come lo stomaco quando noi mangiamo nello stomaco ecco si converge tutta la circolazione e tutta l'energia perché lo stomaco ha bisogno di digerire tutto l'apparato gastrointestinale grazie per aver detto il fatto non sistema ma organismo e quindi è come se il cuore quando è spinto da questa emozione di amore a un certo punto facesse convergere dentro questo cuore tutta questa energia della laminina e poi la sparasse in tutte le direzioni creando anche un'alterazione fondamentalmente di quella che è la realtà circostante e qua poi entriamo nel discorso dei miracoli che però diceva anche Emilio del Giudice ho ascoltato con molta attenzione le sue diciamo e concludo che i miracoli vengono spiegati dai concetti di fisica quantistica che lui in maniera egregia spiegava nei suoi quindi io non ho una domanda io volevo dare al mio piccolo contributo da medico che ho finito il mio piccolo contributo da medico per dire magari a voi che siete fisici se può essere un'idea anche questa della laminina grazie non posso commentare sulla laminina semplicemente perché è la prima volta che la sento rovinare e quindi non ho una cognizione in causa come commento generale devo dire che questa teoria nuova che permette di portare la spiritualità dentro la fisica e la fisica dentro la spiritualità permette di affrontare problemi di questo tipo in maniera che nel passato non sono mai stati affrontati cioè è necessario la razionalità della scienza è un dono che ha fatto la scienza all'umanità negli ultimi 400 anni che diventa una condizione necessaria ma non sufficiente per fare, per studiare la realtà più vasta che contiene anche aspetti che vanno al di là della razionalità cioè il mistero che abbiamo davanti va affrontato però con razionalità con logica e con apertura al mistero quello che non apprezzo dalla scienza è mettere bordi in quello che si deve investigare e questo deve essere tolto altrimenti noi che siamo stati definiti come macchine ci comporteremo come macchine e non esploreremo mai la nostra dimensione spirituale cioè sostanzialmente cerchiamo le chiavi che abbiamo perso non necessariamente sotto al lampione mi chiamo Luigi Perfetti di Ferrara e non dico altro io sono qui perché lei è il contrario di me cioè io sono un uomo maturo che non ha realizzato quasi niente e sono affascinato dalla sua vita proprio tutto quello che ha realizzato sin dalla giovanità quindi sono qui per questo motivo quindi non mi intendo di informatica non mi intendo delle cose che descrive io mi attira come persona quindi sono qui perché avendo visto i suoi video avendo letto qualcosa dei suoi libri ho pensato lei è una persona preziosa proprio per me per la mia vita e per persone che possono essere nella mia condizione una cosa che mi ha colpito molto è questa io da quando sono bambino da quando sono piccolo mi sono sempre chiesto come cioè io ho sempre percepito Dio l'ho sempre sentito e mi sono sempre chiesto qual è il rapporto che è Dio un senso della vita chiamiamolo come vogliamo con l'individuo con me stesso insomma quando ne parlava della coscienza che è un campo quantistico che non è riproducibile insomma quindi non è conoscibile se non sei dentro queste esperienze insomma l'ho collegato ad alcuni studi che faceva Steiner sul Dio sulla inviolabilità del Dio e sulla coscienza individuale come spazio sacro proprio come spazio sacro inviolabile insomma e quindi è estremamente prezioso e voglio dire pensando all'individuo come frattale come parte di di un tutto che comunque è non rispettiamo bene cioè voglio dire se c'è un se dentro di noi se l'individuo ha un sistema fatto cioè costruito in un certo modo comunque è una parte del tutto e quel tutto comunque ha una corrispondenza la coscienza è importantissima e come diceva lei noi siamo una parte di questo tutto di questo Dio di questa entità più grande di noi e quindi mi scusi mi scusi non mi accorgo quanto parlo e quindi mi pratica tutto in evoluzione e quindi è in evoluzione anche anche il supersistema insomma in qualche modo vedete cosa ne penso riguardo a questo lei ha colto il senso di quello che dico a mio modo di vedere naturalmente a questo punto è un'ipotesi non è che non sono io sono arrivato a questa conclusione una conclusione che per il momento mi sembra sensata però non la voglio far passare per la verità per esempio l'idea che l'informazione quantistica rappresenti la nostra esperienza è molto più radicata in quello che si sa e quindi quell'idea è molto più come dire un'ipotesi molto più fondata quello che dirò adesso è un'idea più generica che potrebbe anche essere sbagliata però è importante perché dà un'interpretazione alla nostra natura allora in questa interpretazione uno la totalità di ciò che esiste vuole conoscere se stesso allora la conoscenza di sé secondo questo modello porta in esistenza una monade un essere cosciente che ha le stesse caratteristiche di chi lo ha creato che è uno perché uno conoscendo se stesso e siccome uno è olistico quindi non è fatto di parti separabili quando conosce se stesso deve conoscere se stesso completamente però siccome noi siamo in tanti vuol dire che questa conoscenza di sé di uno deve avvenire più di una volta altrimenti avrebbe esaurito la sua conoscenza di sé e a quel punto sarebbe contento quindi quindi il fatto che ci sono tanti di noi implica che ognuno di noi è un punto di vista di uno su se stesso esattamente l'essenza dell'esperienza che ho raccontato l'esperienza dell'esperienza che ho raccontato io mi sono visto come un punto di vista di uno su se stesso allora nel momento in cui ci sono tanti tanti punti di vista di se stesso che possono conoscere se stessi da dentro solo non potrebbero conoscere l'altro se non comunicando devono comunicare per conoscere se stessi perché ciascuno è un uno è una parte intero quindi l'intero che è dentro l'altro è uguale alla nostra e lo vogliamo conoscere con il nostro punto di vista ecco quindi che dobbiamo creare metodi di comunicazione se la mia esperienza non è comunicabile perché non è informazione quantistica non clonabile come spiegazione allora è necessario avere dei simboli che sono condivisibili ecco quindi perché esiste la fisica classica la fisica classica è quella che permette di avere simboli condivisibili con cui comunicare con cui creare dentro di noi un'esperienza simile a quella che c'è nell'alto ecco quindi che abbiamo spiegato la ragione per cui ci siamo in tanti perché comunichiamo perché esiste una fisica classica non esiste soltanto la fisica quantistica quindi un'esperienza interiore che è solo e incommunicabile perché la mia esperienza è sempre più ricca come ho detto dei simboli che io devo usare per comunicarla e nello sforzo tra l'altro di comunicare la mia esperienza cioè di tradurre l'esperienza in simboli avviene la trasformazione da una realtà non algoritmica a una realtà algoritmica quindi l'algoritmo e la matematica nascono dal bisogno fondamentale di esprimere quello che proviamo dentro di noi perché nel momento che lo mettiamo in simboli abbiamo creato degli algoritmi abbiamo creato dell'informazione e abbiamo creato delle strutture che sono descrivibili dalla matematica che in un certo senso sono le strutture e che è la struttura interna al significato che sentiamo e quella struttura interna del significato che proviamo è universale deve essere universale perché abbiamo tutto dentro di noi anche qui nel nostro piccolo siamo in tanti e comunichiamo proprio per questo io credo che questa non so temo che sia l'ultima domanda non so se ce n'è ce n'è anche un'altra le ultime due domande le ultime due domande e mezzo mi raccomando allora presentazione e sentendo buongiorno a tutti sono Francesco Caldi quasi un ingegnere navale però con una formazione umanistica figlio di un di uno psichiatra medico che però voleva fare l'ingegnere allo spaziale allora io ho innanzitutto ho notato che appunto il suo pensiero circa la creazione concreta di nuove realtà intersoggettive si avvicina a quello di Giovanni Ariano presidente della società di psicoterapia integrata presso cui l'anno scorso lei ha tenuto una conferenza Ariano su questa linea di ricerca innanzitutto volevo chiederle se ha fatto dei passi avanti e poi volevo chiederle allora se e con quale ente universitario questo numero di ricerca lei collabora al fine di costruire una nuova scienza empatica a partire dalla coscienza come lei dice alla fine del libro oltre al professore D'Ariano e all'istituto che ha menzionato prima l'altro il correlatore il appunto il dottore Germano all'inizio e poi ecco volevo chiederle infine diciamo a quale punto siamo e qual è lo stato dell'arte della scienza empatica grazie benissimo allora io ho collaborato con un certo numero di ricercatori all'università di per esempio UC Irvine l'università di California Irvine per 5 anni con Don Hoffman che non so se lo conosce e altri ricercatori del suo gruppo e poi ho collaborato con l'università di California Santa Cruz dove ho creato anche una cattedra sulla fisica dell'informazione in quella università si fanno studi ancora diciamo ancora molto di fisica non ancora non ancora di fisica e metafisica però man mano che passa il tempo man mano che le esperienze gli esperimenti lo mostreranno io mi auguro che ci sia un movimento verso la comprensione perché di questi altri aspetti della realtà arrivare ad avere un cambiamento di paradigma all'interno dell'accademia soprattutto in America è molto difficile perché c'è un movimento molto forte a rimanere entro certi schemi mentali siccome gli articoli vengono devono essere validati da un referee ecco che se uno dicesse delle cose come le sto dicendo io non sarebbero mai pubblicati e quindi uno deve stare molto attento a dire non dire in modo da riuscire a pubblicare perché public or perish è la mantra dell'accademia e quindi c'è una certa forma di controllo che viene fatta sul pensiero e sugli esperimenti dell'università di Pavia naturalmente con il professor Daliano la collaborazione è stata la più fruttuosa perché ha portato appunto a questa prima teoria che è un punto fermo adesso diventa un punto fermo ma ci vorranno anni e anni prima che venga riconosciuto come punto fermo lo dico io ma devono dire anche gli altri e secondo me quello lì è un chiodo piantato che non si può più togliere questa avendo capito che la fenomenologia dell'esperienza è la stessa fenomenologia dell'informazione quantistica porta a una identità quasi non è un'identità perché una è una teoria e l'altra è la realtà come ho detto prima però porta a questo omomorfismo che è necessario a qualsiasi teoria cioè la rappresentazione deve essere omomorfica a quello che rappresenta e quindi abbiamo qui una plausibilità molto forte e quindi io spero che attraverso questo chiodo piantato si possa andare avanti scientificamente perché questa è una cosa che non si può eliminare così facilmente il resto ci vorrà molto più tempo perché purtroppo il pensiero il materialismo il riduzionismo che domina oggi florerà ancora per molto tempo grazie ci sono due mi raccomando brevissime domande poi abbiamo abbiamo no c'è un breve un breve intervento del professor Giuseppe Vitello alla fine alla fine alla fine quindi due domande molto breve mi raccomando salve sono Dario Imparato studio all'IT-Medi di San Giorgio a Cremano in informatica la mia domanda è molto breve volevo sapere il suo pensiero sul fatto che ci siano degli automi in un hotel in Giappone che gestiscono tutto l'impresso e di come man mano gli automi stanno andando a sostituire i lavori di noi diciamo comuni mortali la mia domanda nasce anche dal fatto che lei ha accennato all'intelligenza artificiale e ha fatto ha raccontato varie sue storie per quanto riguarda anche la scoperta del microprocessore del touch screen che su cui lei le ha chiesto diciamo l'esclusiva e tutto quello che ha raccontato grazie non bisogna credere alle storie che si leggono sui giornali cioè l'idea che ci siano robot che sostituiscono anche una persona che fa i letti in un'alberto i letti non siano letti in cui non si può dormire perché sono letti molto bello organizzati dove probabilmente uno li deve fare prima che i robot ci mettono le mani voglio dire questo che oggi ci viene vendita l'idea che la robotica sia arrivata al momento di risolvere problemi molto complessi e invece per esempio ancora oggi la macchina che si guida da sola che sono trent'anni che ci dire che tra i suoi anni avremo la macchina che si guida da sola non è ancora la ragione è molto semplice che il problema che l'integra artificiale deve risolvere anche quando sono confinati dalle regole per esempio le regole del traffico sono regole che devono essere obbedite sono molto più difficili di quello che uno creda perché ci sono sempre imprevisti e gli imprevisti per risolverli bisogna capire solo la coscienza può capire l'intelligenza artificiale non può capire nulla quindi questi problemi continuano a intrudere nella macchina che si guida da sola quindi finché la macchina è in autostrada con la linea centrale che funziona non ci sono intoppi eccetera tutto funziona bene quindi il robot della fabbrica controllata funziona benissimo e toglie e toglierà il lavoro alle persone che possono fare solo quello possono fare solo un lavoro ripetitivo che in realtà deumanizza quindi il problema non è quello della robotica che prende il lavoro dell'uomo è quello che noi non ci occupiamo di istruire le persone che possono fare solo il lavoro di un robot a essere umani grazie io mi chiamo Attilio Ciranna lavoro in Telecom Italia mi occupo di assistenza cliente di un lavoro umano vorrei lincire a prendere per la domanda più breve lei crede in Dio? per la domanda credo in uno la totalità che ciò che esiste che mi ha creato il principio di manazione ultimissime due domande e poi c'è Giuseppe Ritelli buongiorno salve sono uno studente del Mazzini di Napoli e volevo chiedere una cosa nel 90 la mattina dopo che ha avuto questa esperienza metafisica ha provato dare un senso razionale scientifico a quello che le era successo oppure ha subito collocato diciamo questa sua esperienza in un campo irrazionale però non dico adesso dico la mattina dopo che ha avuto questa esperienza cioè non è andato in crisi perché comunque lei è laureata in fisica i fisici molte volte sono molto scettici su queste esperienze mistiche questa è una no non sono andato in crisi perché l'esperienza aveva l'evidenza di verità e di realtà che solo l'esperienza diretta può portare e ho riconosciuto questa evidenza e quindi ho detto questa esperienza è ancora più vera di una dimostrazione di un teorema è quello di un problema che noi ci raccontano cioè la scienza dice tipicamente che non dobbiamo credere nella nostra intuizione ma siamo ma siamo ma è quella che ci guida salve sono Piero Cammerinesi sono un giornalista e un autore volevo fare una domanda conclusiva visto che sarò l'ultimo della serie allora noi viviamo normalmente nella cronaca non nella storia quindi non abbiamo l'immagine degli eventi storici nel loro insieme in realtà la mia riflessione è questa nel mondo antico esisteva la teocrazia esisteva la religione ed esisteva anche la scienza che era sotto comunque diciamo così il complesso religioso da Copernico Galileo in poi la scienza e la religione si sono cominciate a separare finché la scienza ha portato al materialismo e ha completamente estromesso la religione come pure la filosofia che è diventata l'ancella della scienza bene oggi con il suo intervento con la sua presenza e con gli stimoli e i semi che lei sta portando ci troviamo a una riunificazione di fronte a una riunificazione tra scienza e religione mentre da una parte la scienza è diventata una fede l'abbiamo vista in questi due anni un dogmatismo insensato il futuro della scienza deve essere portato proprio dalla coscienza quindi le domando come nel jainismo antico nella religione indiana esistevano i tir tankara gli apritori di varchi precursori lei si rende conto di essere uno dei primi delle prime avvisaglie di questo nuovo mondo certamente sono cosciente di dire delle cose che sono che turbano l'equilibrio di chi crede esclusivamente al materialismo e certamente mi rendo conto che la mia decisione di raccontare la mia esperienza per esempio e quindi essere soggetto al ridicolo e alla derisione degli scienziati che la sanno più lunga di molti scienziati che la sanno più lunga è stata una decisione diciamo coraggiosa perché mi sono detto non posso parlare di coscienza di queste cose se non posso dire quella è la mia motivazione per parlare di queste cose da dove viene questo bisogno di dire queste cose perché non lo dico per arricchirmi o per fare proseliti o per nessun'altra ragione che per raccontare la mia storia una storia che mi ha portato a queste esperienze perché volevo capire volevo conoscere me stesso e quindi questo bisogno di raccontare la mia vita l'ho sentito come un modo di ispirare i giovani a guardare dentro di sé perché oggi i giovani sono condizionati a guardare l'iPhone o addirittura a confondere un'immagine di una persona amata con la persona amata cioè voglio dire ma come possiamo confondere il simbolo con il significato del simbolo la scienza parla di informazione senza significato come si può discutere in una realtà dove il significato non esiste c'è solo simbolo che interagisce con un altro simbolo quindi queste cose per me erano come le ho vissute e visto il valore di queste esperienze che mi ha portato da essere infelice a un appagamento cioè quello che pensavo felicità è cambiato completamente tra l'altro perché l'idea di felicità che avevo prima era l'idea quasi di un bambino cioè non avevo mai pensato alla felicità in realtà pensavo che l'avevo sempre posticipata quando avrei raggiunto certi obiettivi anche se gli obiettivi non erano mai stati espressi esplicitamente però una volta raggiunti questi obiettivi ho detto come mai non sono felice allora attraverso il processo di conoscenza di me sono arrivato a capire che la felicità come l'immaginavo non esiste nemmeno quello che conta è l'appagamento sentirsi sentirsi a casa propria esattamente quella esperienza che ho avuto all'inizio di sentire che uno sta facendo quello che è venuto qui a fare e lo fa con la gioia di farlo e basta quindi è proprio è un appagamento naturale essendo invece di essere attori di se stessi uno è se stesso e questa è una bella differenza si direbbe è torn in the universe no? in un certo senso quindi essere adesso concludiamo con l'useppe vitello dell'università di salerno che tra l'altro è stato fondamentale per l'organizzazione di questo incontro quindi vorrei dire prego io sarò velocissimo come si usa dire ma veramente lo sarò innanzitutto ringrazio Federico Faggin di essere qui con noi e per tutto quello che ci ha detto poi volevo sottolineare in effetti non ho una domanda precisa però è più che altro un sottolineare delle cose che Faggin ha detto e che sono estremamente importanti fatemi partire siccome sono un fisico e si è parlato di scienza e il modo in cui le barriere che si suppone che si debbano avere eccetera eccetera io ho sempre fatto quando dico sempre significa siccome non sono giovanissimo e ho avuto esperienza una felicissima esperienza di collaborazione con Emilio del Giudice Giuliano Preparata lo stesso Roberto Germano insomma questo gruppo che in parte conoscete noi non abbiamo mai concepito barriere allora in questi anni gli ultimi che abbiamo trascorso e ci venivano presentato degli esperti che poi bisogna anche vedere fino a che punto erano esperte queste persone come scienziati quella è una contraddizione in termini la scienza la fanno gli esploratori non gli esperti gli esperti esperti è il participio passato del verbo esperire quindi l'esperto ha a che fare con quello che è già noto e del nuovo non sa nulla quello che sarà il nuovo è quello lo cerca l'esploratore lo scienziato è l'esploratore e per un esploratore parlare per esempio di merito Roberto citava la frase di chi era questo statista francese che diceva siamo alla ricerca di ricercatori che abbiano trovato insomma allora l'esploratore in quanto tale non ha meriti nel momento in cui l'esploratore scopre qualcosa allora acquisisce un merito ma diventa in quel momento esperto e quindi non è più esploratore non è più scienziato a questo punto stamattina ma già da ieri sera abbiamo appreso che il ministero dell'istruzione si chiamerà ministero dell'istruzione del merito nulla di più assurdo nulla di più assurdo il merito è qualcosa che seleziona che alza delle barriere qual era il merito di Colombo quando cominciò il suo viaggio zero meno che zero il merito è venuto dopo e la scoperta dell'America per l'esperto dell'epoca fu un grandissimo errore perché quello doveva andare in India quindi eccetera e l'ultima cosa che volevo dire è che le cose che abbiamo sentito stamattina puntano non solo ad un recupero di quella dimensione religiosa come diceva forse non so chi ha fatto una domanda del genere ma corrisponde anche a riunificare le cosiddette scienze umane con le cosiddette scienze naturali esiste una sola conoscenza una sola acquisita con varie con vari metodi metodi di indagini i metodi possono essere diversi ma la conoscenza è una sola e qui mi piace ricordare a proposito del merito oppure perché in quegli anni il merito veniva messo in prigione delle parole con cui Gramsci nei quaderni dal carcere questa parte scritta intorno al 32 credo in carcere quindi nel carcere fascista parlava la pagina dedicata a quello degli intellettuali dell'intellettuale nella società e lui cominciava dicendo che il cammino verso la conoscenza e la conoscenza abbiamo sentito non può prescindere dalla parola coscienza va attraverso tre gradini quello del sapere non il sapere con la S maiuscola ma i dati gli elenchi dei fiori quanti ce ne sono i fatti sapete poi usavo una parola bellissima di proposito che è comprendere il secondo gradino la parola comprendere è qualcosa di più bello che non capire e di più grande che il capire che il capire corrisponde ad una capacità quella bottiglia di un litro arrivato al litro non posso mettere altro invece il comprendere significa abbracciare mettere assieme i dati che sono venuti dal sapere questo mettere assieme e lì opera la coscienza perché lì nasce il significato delle cose e poi in maniera ancora più rivoluzionaria introduceva il terzo gradino che è sentire il sentire come un gradino verso la conoscenza che è quello che appunto ci sta sostiene con forza il nostro Fagini e ancora in maniera se possibile ancora più rivoluzionaria Gramsci insomma non a caso stava nella prigione fascista e viceversa cioè dal sentire si può costruire la conoscenza risalendo il gradino verso la comprensione e poi anche con la curiosità facendo l'elenco dei dati quindi io insomma questa cosa volevo dire in tutto questo il merito non ci assecca come diciamo noi a Napoli non ci assecca proprio niente mi dispiace queste cose io le dico soprattutto ai ragazzi che stanno a scuola ragazzi diffidate da quelli che vi dicono di dover essere meritevoli significa che imbrogliano o come diceva il professor Fagini vogliono che voi abbiate paura e oltretutto come diceva Emilio del giudice come posso amare io il mio prossimo ama il prossimo tuo come te stesso quando in un in un contesto di competizione se poi mi giro e quello mi accoppa e lì è la ricerca del merito quindi chiaramente non è possibile quindi ho questo tipo di sottolineature volevo dare a conferma e a condivisione di tutto quello che è stato detto grazie grazie a Federico Fagini al studio studio e a tutti voi che siete intervenuti grazie moltissime e ok adesso adesso Federico Fagini deve avere una breve intervista e poi dopo può anche dare degli autografi diciamo nel caso prima l'intervista e poi dopo grazie ancora grazie ancora grazie grazie